è lui genuino è ancora lui sempre genuino è sempre lui ha solo accorciato il nome galletto vall'espluga ma è sempre giovanissimo veloce da cucinare tenero mai grasso diverso dal pollo ogni galletto una porzione accorciato il nome ma si presentano bene e danno un tocco di classe al medio ha accorciato il nome e allora è sempre buono lo stesso ma attenzione oggi più che mai non c'è dubbio scudetto rosso vall'espluga